Si chiude con una tragedia la storia del granghetto. Due uomini sono morti nella notte, divorati dalle fiamme che in pochi minuti hanno avvolto il villaggio nelle campagne tra San Severo e Rignano Garganico. Un incendio, solo l'ultimo di un lungo elenco di roghi, sette in tutto, che dal 2012 ad oggi hanno devastato la baraccopoli. Ieri quello più grave in termini di vite umane. Mandando a ritroso, le fiamme distrussero 30 baracche solo un mese fa e lo scorso anno due distinti incendi mandarono incenere l'80% delle costruzioni di legno e lamiere che compongono la baraccopoli. Si è trattato sempre di incendi causati da eventi fortuiti, come il cattivo funzionamento di stufette o di cucine, ma ogni volta le baracche di legno erano state ricostruite. Tra poche ore del granghetto rimarranno solo i ricordi amari di chi ci ha vissuto e che nonostante fosse consapevole della tragedia che da un momento all'altro poteva consumarsi, come è accaduto nella notte, considerava quel posto casa. In Cento ieri si erano rifiutati di lasciare la struttura, nel timore forse di perdere il lavoro nei campi legato al ghetto. Due di loro nei campi non ci torneranno, hanno vissuto e sono morti nel granghetto.